La rimonta, la rimonta, la rimonta di sto cazzo, attaccate e vi alla ammazza. Allora non riesco, ve lo dico sincero, a prendervi per il culo totalmente perché io sono anche onesto, godo come una mucca addomesticata avervi visto essere eliminati, perché poi secondo me con un 1-0 ad Anfi vincendo il peperone, il bruciore anale per l'espulsione di Sanchez è immensa, è indescrivibile, quindi io dovrei godere come un suino davvero. Però vi va dato atto che andare in Inghilterra, avete avuto anche un po' di culo perché ne hanno presi di legni e hanno sbagliato di gol, però andare ad Anfi e vincere è tanta roba che non vi è servito un cazzo però. Quindi alla fine vincere, questa si chiama Champions League, non è campionato, vincere ad Anfi e andare fuori dalle balle non conta un cazzo, siete andati fuori e noi stasera ce la godiamo, siamo felicissimi, ci piace proprio pensare a voi che tornate a casa con le orecchie abbassate, qualcuno si lamenterà sull'espulsione, sicuramente mi sembrerà già di vedere il vostro allenatore in conferenza con le latine. Abbiamo dominato per 70 minuti, siamo ancora sfortunati, stiamo ancora leccando le ferite per il derby di 50 anni fa, però così è. Oggi abbiamo un triste annuncio da darvi, l'Inter è stata eliminata, se ne andassero a fare in culo, sempre Balsamila, però dai, vi va dato atto, avete fatto una bella partita in Inghilterra.